Gullit e Van Basten, lo abbiamo detto e letto tante volte, caro Angelo, sì, salutiamo però dal salcio passiamo anche alla formazione, perché Tomaso Mandato è all'avanguardia in Campania e anche a livello nazionale, nella formazione in ambito sportivo, formazione tecnica, scientifica anche, in ambito sportivo e ha organizzato per il prossimo anno un grande laboratorio dello sport, ha avvolto la formazione di decine e decine di oggetti specializzati nell'ambito delle organizzazioni degli eventi sportivi, è così Tomaso? È così nel tempo che si ringrazia Dall'Effegno, è un progetto molto grande, diciamo, frontale, molto importante, perché è il primo in Italia, in cui si parla effettivamente di professionalizzazione nell'ambito delle emissioni dello sport, è un progetto approvato dalla regione Campania dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e credo che abbiamo diventato una serie di corsi finalizzati alla creazione di alcune figure che lavoriamo in un anno, tranne a avere un nuovo posto passionale, in un anno che tanto ha avuto quanto appunto agoniato e quello dell'estate, che danno le scuole di formare delle figure che sono in grado di scoprire in tessi scopri, in grado di dare...